Sono oltre 500 le braccianti agricole che risiedono a Villa Castelli. Molte di loro sono anche mamme. Per questo il comune, novità assoluta in Puglia, ha pensato bene di aprire le porte dell'asilo di via Montessori già alle 3 del mattino. La scuola è di proprietà comunale, ma la gestione delle attività è stata affidata mediante gara pubblica alla cooperativa Giocartacli di Brindisi. Tre le fasce orarie previste, dalle 3 alle 9 con servizio navette e accompagnamento, dalle 9 alle 15 con servizio mensa e dalle 15 alle 20 per un totale di 75 bambini tra prima infanzia e asilo nido. Per garantire l'apertura della scuola e venire incontro alle esigenze delle mamme impegnate nella raccolta dei prodotti agricoli, il comune di Villa Castelli ha utilizzato i buoni del servizio di conciliazione vita-lavoro per le famiglie. I costi sono legati al modello ISE e quindi variano in base al reddito. Il contributo minimo è di 50 euro al mese e la percentuale di sconto sulla tariffa applicata oscilla tra il 20 e il 90%. Il caporolato non c'entra niente con l'asilo nido, ma è soltanto un modo per custodire e per proteggere i bambini di queste famiglie che sono esposti ovviamente a questo rischio di lasciare familiari, a volte a parenti, figli a quell'ora. Per cui l'amministrazione pubblica, io credo anche con molto orgoglio, lo posso dire, si è fatto carica di questo servizio che ovviamente mi auguro che funzionerà, anzi ne sono convinto che funzionerà.